Dag Auto Mercedes-Benz è sinonimo di prestigio, affidabilità e sicurezza. L'ambizione della Dag Auto è raggiungere la piena soddisfazione del cliente, offrendo qualità di prodotti e servizi, da sempre fiore all'occhiello di Mercedes-Benz. L'affidabilità e la flessibilità dei tecnici d'officina, specializzati Mercedes, e la professionalità dello staff di vendita, completamente rinnovato, sempre a servizio del cliente, sono le linee guida della Dag Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz. Grazie.